Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Un'open world, un'avventura, che sembra davvero essere interessante, uscirà a maggio e voi lo vedrete dopo l'uscita. Non lo conoscevo, ma ho guardato qualche screen e c'è stata la possibilità di provarlo. Uscirà in early access, come vi dicevo, ma dovrebbe uscire comunque in 1.0 nell'arco di quest'anno. Il gioco è già ampiamente giocabile e, cosa più importante, vi garantisce comunque un 30 ore di gameplay, che non è poco. Di che cosa si tratta? Beh, noi siamo lui, Kaku, appunto, che svolge le sue avventure nel mondo, migliorando il suo equipaggiamento, le sue armi. Insomma, adesso lo andiamo a vedere perché è un po' particolare. Si può, abbiamo raccolto, parlando col vecchietto, abbiamo raccolto, vedete, è in italiano, tra l'altro, cosa sorprendente. Possiamo anche andare a, diciamo, colpire le cose da lontano e per colpire le cose da lontano ci sono due modalità. La C, e ce lo tiene selezionato, possiamo sparare. Vedete che in questo caso abbiamo raccolto risorse che arrivano verso di noi, oppure tenendo premuto il tasto R. Abbiamo la possibilità, poi, di rotolare, di fare la schivata, di attaccare con lo scudo, di attaccare con l'arma melee e con il control, che non è comodissimo correre, appunto. Adesso io vengo qui, prendo queste risorse. Le risorse sono importanti perché nella mappa adesso qua non c'è, almeno, non ancora perlomeno, una mappa, però c'è il tavolo della creazione dei cibi dove possiamo andare a farci le nostre ricette. La vita non si rigenera in automatico, infatti adesso dovrò prendere una cura, perché in alto a sinistra vedete la vita e vedete sotto la stamina che scende mentre noi poi andiamo a correre. Qui poi ha questa camminata un po' da quadrupede e qua c'è anche la raccolta di minerale che avviene o cliccando, premendo con E o colpendolo. E in questo caso colpendolo nel senso di danno un colpo, eh? Allora, colpiamo anche questi, perché questi sono tutte risorse che poi andiamo a raccogliere, vedete qui, gloria, divina della leggerezza, della resistenza, sono tutti i materiali che ci saranno utili. Qua abbiamo le armi con i nostri copricapi, l'arma da equipaggiare, non ne abbiamo altre. È un mix di generi questo, perché da un lato può ricordarmi magari uno Zelda per PC, dall'altra l'ambientazione iniziale, tutto il bosco dove ci avventuriamo ad inizio gioco, mi ha ricordato, che non c'è da nulla, però me lo ha rievocato come ambientazione, un God of War o un Tomb Raider, insomma, agli inizi. Quindi, però ecco, non è nulla a che vedere, ovviamente, con uno Zelda e con un God of War. Ma, siamo entrati in questa caverna, ho deciso di iniziare adesso, perché la missione mi ha portato qui, dove c'è questa caverna istanziata, dove stiamo inseguendo un porcellino. Sono dei... Stavo dicendo, no, sono dei... Non ho capito cosa è successo, lo stanno inseguendo tutti. Ma la cosa molto carina è che, a parte che, vabbè, il videogioco è sviluppato da cinesi, ma ha una software house cinese. Ma la cosa bella è che ha un sacco di cazzi in così, che non ti aspetti. E, secondo me, andando avanti, si sbloccano anche tante cose, c'è un incudine lì, quindi si potranno fare tante cose. Ovviamente non avrà la libertà di uno Zelda, quello sicuramente. Però, vediamo. Vediamo, perché è un gioco tutto da scoprire. Ecco. Pecchio mio, cos'è questa? Fammi vedere, potrebbe essere usata per tenere traccia di qualcosa. C'è segnata la sovrapposizione... Eh... Ok, sarà un compendio, qualcosa, un... Pagina dorata. Tiene traccia dei progressi. Vediamo se è comparso qualcosa. Abbiamo la storia. Sì, infatti. Abbiamo sbloccato questo. Abbiamo i vari capitoli di gioco e qua cose da trovare. Quindi magari sbloccaremo anche la mappa. Andiamo avanti, che intanto qua vedo che ci sono altri funghetti. E la pietra gialla, che mi pare non avessi... No, ne avevo già. Prendo i funghi. Perché i funghi poi mi serviranno per fare il cibo. Ok. Andiamo a vedere. Eh no, aspettate. Ma... Da qua siamo arrivati. Ah, vuole parlare con me. Ora che la garena è crollata, sembra la nostra avventura si è giunta al termine. Voglio trovarli. Non è tradotto in inglese, diciamo, come... Audio. Ma in una lingua strana. Noi trovarli, ci deve essere un altro modo. Giove... Ok. Beh, foro già la stella laggiù, prova di nuovo. Ok. E infatti adesso abbiamo sbloccato anche questo tipo di crafting. Vedete che a me viene da correre, ma in realtà quello è il tasto della schivata. Ok. Ok, abbiamo sbloccato questa stella dell'incudine con cui possiamo andare a potenziare. Vediamo un po'. E qua. Possiamo potenziare. Attacco con arma. Attacco a distanza. Banalmente messi in categoria. Poi equipaggeremo un'arma. Abbiamo la capacità massima di cibo, trasportabile, l'equilibrio. Abbiamo la difesa e la capacità massima di proiettili. Sì, basilare, un po' come succedeva anche, come dicevo in Tomb Raider. Allora, abbiamo accolto questa. L'attacco con arma e la facciamo salire a livello 1. A livello 2 non possiamo. Possiamo livellare altro? No. Vedete che le risorse sono... Perché chiede sempre un mix tra una risorsa e uno dei cristalli che abbiamo in alto. Cioè, vedete, è fatto bene perché non è... Potevano farlo con un'animazione veloce, invece hanno fatto tutta questa animazione. Ed è una cosa molto bella. Adesso possiamo attaccare. Ma posso demolire anche questo? No. Va bene. Dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Poi l'inizio è molto comico perché con cui inseguiamo questo porcellino, travolgiamo quel vecchiato che abbiamo visto prima e lui se la prende con noi e allora cerchiamo di farci perdonare. Inizio banale, ma... Vistificato. Quei forzieri, e qua mi ricorda Zelda, si aprono solo nel momento in cui eliminiamo i nemici nelle vicinanze. Quindi, vediamo se riesco ad abbatterlo a distanza. Ah, mi fa la schivata scattando. Però non li sto... Ok, l'ho battuto così, molto semplice. Non ho trovato i combattimenti eccessivamente difficili, questo devo dirlo. E non c'era all'inizio una selezione della difficoltà. Però comunque credo il gioco sia già ampiamente godibile. Abbiamo preso anche delle... Delle risorse interessanti perché... No, qua non si può salire. Abbiamo preso risorse interessanti nel senso che c'erano delle pelli anche nel baule e le pelli servivano per un potenziamento. Adesso scusate, ma c'è anche questo da prendere. Gloria Divina della Resistenza. E qua c'è un cristallo azzurro che non si può colpire. Va bene, dai, andiamo avanti. Torniamo dal vecchietto, vediamo cosa vuole. Vedi le due piastre serviranno due persone per attivarle insieme, però salire sull'altra piastra. Va bene, andiamo. E ci saranno, ecco, dicevo, combattimento ampio, lo pubblicizzano così il gioco, open world e puzzle. Ah, ok, fionda, sì. Ok. Bene. Molto interessante. Ok. Andiamo avanti. Lui mi sta aspettando. L'acqua è fatta bene. Adesso proviamo a uscire dal percorso e vediamo se troviamo qualcosa. Eh sì, un tesoro. Adesso proviamo un combattimento. Attacco anche con lo scudo. Lo scudo stordisce. Ok. Avendolo abbattuto, accedo al forziere, che è qua in un fratto nascosto nella caverna. Recupero altri materiali, ancora pelli, materiale, ok, perfetto, mi è più comodo colpirla che premere la E sul materiale. E adesso torniamo dal nostro amico, così continuiamo. Ok. Andiamo. Andiamo. Oh, che bello. Svegliati. Cos'è? Sei fortunato ragazzo. Cioè? Ma dove è andato il tipo? Queste due pulegge dovrebbero servire, aspetta, ad inalzare il ponte galleggiano. Proviamo a tirarle. Due pulegge. Queste, ok. E vedete perché mi ricorda Zelda. Però di là c'è una capanna, voglio capire che cos'è. Una. Però io voglio andare a vedere cosa c'è di là. Vabbè, dopo lo vediamo. Dov'è il manico di quest'argano? Ok, inizia il puzzle game. Possiamo andare a craftarle? Vuoi dirmi? Vediamo. C'è forse il manico proprio lì dentro. Eh, infatti. Posso entrare? Accampamento pon pon. Eh, poi spariscono in fretta le scritte purtroppo. Eh, come faccio? Ad entrare lì? Qua abbiamo ricaricato la vita. Però... Questo non so cosa sia, perché è un'altra stela ancora. Nell'acqua non ci possiamo andare. Ok, questo è una brutta, bruttissima cosa. Magari diventerà un'abilità o più semplicemente non l'hanno realizzata la possibilità di nuotare. Però ci sono dettagli veramente ottimi qui, vedete che ci sono delle incisioni su questa pietra che fanno capire qualcosa, un fenomeno di un evento di caccia, scusate. Dove vedete il blu ci si può arrampicare. C'è il doppio salto, cosa che non mi ricordo tanto spesso di usare. Fungo, sì. Ma io voglio salire sopra, ok. Sì, allora, tecnicamente non è male. In certi punti diventa un pelino più venoso. Ma è gradevolissimo, davvero. Ok, sono riuscito ad arrivare su. Come se riesco a prendere quello? Ok, non serve caricare per sparare più lontano. Non si può colpire da qui, ok. E sono dentro. Ci sarà un bosco, sicuro. No, invece no. Apri il forziere e lascia il campamento. Fatemi un po' vedere se posso fare qualcosa. Ok, questo è cuoco. Quindi vedete, possiamo cucinare usando le risorse che abbiamo. Io adesso creo speed in i funghi, che ne ho 45. Creo questo. Adesso la ricetta che mi ha fatto fare all'inizio. La zucca non ce l'abbiamo e non abbiamo neanche questo. Quindi possiamo creare nel massimo. E possiamo creare nel massimo anche di questo. Quindi una volta che usciamo, lui si metterà a cucinare. C'è delle animazioni che comunque dici... Ma chi glielo faceva fare di fare... Anche quello. Bastava che cliccassi, non so... Fai e le facevo e basta senza l'animazione. Quindi è lodevole. Lodevole è il lavoro degli sviluppatori. Ora, all'interno abbiamo trovato la... Ok. Sì, abbiamo trovato quello che ci serviva. L'arma potrebbe... Ci sono strumenti da lavoro. Posso creare qualcosa con quel cristallo? Ok. Quindi, creazione di proiettili. E adesso mi ricorda... Torna a ricordarmi un po' più... Uno Zelda, piuttosto che uno Tomb Raider. Posso creare... Ecco. Le rocce normali che stiamo usando sono illimitate. Mentre invece queste... Le paghiamo, insomma. Le craftiamo. Allora, questa è velenosa. Questa è del tuono. Io faccio la velenosa. Ne creo una. Questa è del fuoco, sarà. Sicuro. Per il fuoco faccio uno, perché le pietre... Le pelli sono rare. Sì, no, tanto potremmo fare una sola comunque, quindi. Qua invece, vedete, non c'è... Non c'è l'animazione. Quindi, teoricamente, potrei andare qui... E scegliere il proiettile. Da sparare. E non vorrei che questo, e qui aprirebbe infiniti scenari, L'utilizzo di un proiettile piuttosto di un altro potrebbe essere utile nei puzzle ambientali. O forse non è il linguaggio strano, è solo il cinese, non lo so. Usa i proiettili per sconfiggere per un po' lontani. Mamma mia. Devo prima capire se devo abbattere loro. Eh, vabbè, attaccherò lui prima. Lui è coriace. Vedete, però l'ho stordito. Adesso dovrei anche mangiare. Ok, ho mangiato, ho recuperato la vita. Beh no, lui è coriace fino a un certo punto. Fino a quando non lo stordisco e poi lo uccido. Eh, lo uccido per modo di dire. Mangia, mangia, mangia che diventi grande. Ok. Gli do un'altra botta con... Uh, lo scudo! Vai cazza, bubolo! Ok. Sì, mi sono chiuso un po' in un angolo, non era il massimo della comodità. Ok. Ok, lui è sistemato. Poi vediamo di sistemare gli altri due. Ok, uno è andato. Ok, è andato anche lui. Perfetto. L'ho sofferto un po' questo combattimento. Fortuna che avevo craftato del cibo. Ora possiamo andare finalmente ad aprire il ponte. Mi ricorda anche Immortals. Quel gioco un po' puzzle, un po' stile Zelda che è uscito su Ubisoft. Interagire. Ok, pronto per essere usato. Lo usiamo. Perché il film è così largo? Come ha fatto a rompersi il ponte? Il film sembra profondo, io non so notare. Vedi la stella laggiù perché non provi a usarla, ragazzo? Uh, potrebbe apparire nuove prospettive per il futuro. Vediamo. L'ambiente... Ricorda anche un po' Kena. Cioè... Non ci ho mai giocato Kena, vi dico la verità. Però... Eh, mi ricorda tante cose. Cioè, secondo me questo qua è un prodotto di assoluto livello. Poi magari saranno le recensioni di Steam a parlare una volta che uscirà. Però, ecco, abbiamo sbloccato le abilità e questo dovrebbe confermare la mia ipotesi. Abbiamo attacco con lo scudo. Abbiamo multifendente. Ma queste tecnicamente le dobbiamo già avere perché ci sono le combo. Le combo come capitano in altri giochi, tra cui anche Black Desert ad esempio. La fionda è questa. Però possiamo potenziare... E ci dice di prendere questo, che è Space e Shift. E ci consente di fare uno sprint in aria. Ok, qui abbiamo attacco con lo scudo avanzato. Abbiamo difesa con lo scudo. Parata perfetta. E si va via via verso A, uccisore di giganti e un sacco d'altra abilità. Abilità finale, metalliatrice selvaggia. Bellissimo. Eh, è figo. È figo, tanto. Tanto, tanto, tanto. Space e Shift. Tengo premuto, imparo. Con i cristalli si prende questo. Con un tipo di cristallo che non abbiamo al momento. Sono quelli che... Ne abbiamo, sì, in alto. 262. Saliranno probabilmente uccidendo i nemici. 500 ogni punto d'abilità. Ok. Quindi, tecnicamente, posso saltare e fare così. Ok. Vediamo se funzia. Space. Space. È così. Uh, questo è un game changer. Ok. Il cancello è enorme. Antiche rovine, così misteriose e pericolose. Entriamo e diamo una carta. Aspetta. Prendi questo scudo di pietra. Potrebbe proteggerti. L'ho appena trovato sul ciglio della strada. Non c'è tempo da perdere. Andiamo. Sì, però fammelo mettere lo scudo. Ok. Cedo l'inventario. Lo so. L'ho spiegato fino ad adesso. Questo. Confermo. Ah, vedete che cambia proprio sulla. Ok. Confermo. E abbiamo lo scudo più bello. Non cambia il nostro attacco, ma... Oddio, fa forse un po' più di danno. Andiamo con Control. Perché lo Shift l'ha schivata. E che cos'è questo? Ma sapete, non mi capitava da tanto tempo di avere un gioco... Qui magari dico, non è proprio il mio genere questo. Ma di aver voglia di andare avanti per vedere che cosa sblocca. Poi ovviamente questo finirà prima o poi. Però forse è solo Biomutant mi aveva incuriosito così. Che cos'è quel portale vecchio? È la prima volta che lo vedo per andare così. Che strano. È come se mi stesse chiamando. Ok, andiamo. Entra. Cioè così uno vede un portale ed entra. Non provo a mandare dentro qualcuno. Insomma, guarda, mette dentro la testa. Non so. Vediamo dove finiamo. Che molto, molto interessante. È entrato anche lui, allora. Qua ci sono... Anche Horizon Zero Dawn, ecco, potrebbe essere, ha fatto delle iscrizioni, questa tecnologia qui all'interno del mondo. C'è un mix di tantissimi generi. In questo caso, guardando, questo mi viene in mente Zelda, assolutamente. Senza ombra di dubbio. Allora, se colpissi quello? No. Però posso colpire questo. Non capisco cos'è, ma qua c'è una porta. Enigma ambientale, probabilmente. Quasi sicuramente. Eh sì. Eh sì, ci sta avvicinando comunque pian piano a quello che... Quello che ci aspetterà nel corso del gioco. Le rovine. Questa canna perla, assolutamente. Senza ombra di dubbio. Inaspettato, sconosciuto, figata. Ok. E quindi, dov'entrerà anche l'altro, di là? Sì, perché penso si siano accesi adesso, quindi devo toccare. E si accenderà anche l'altro. L'altra torcia si aprirà la porta. Perfetto, è là in mezzo. E là c'è un altro enigma, ancora. Becchietto però, ovviamente, fa lavorare noi. E noi facciamo, andiamo, e lui poi va avanti per prima. Quello è il guardiano, ok. Allora, cacchia. È uscito che aveva delle resistenze. Ma non so quali, quindi... Beh, tanto proiettili io non ne ho, quindi... Mangio lo spiedino di fungo. Sono morto. Mangio lo spiedino di fungo. Mangio lo spiedino di fungo, ok. E non mi ha fatto niente. Vabbè. Ma scusa. Sì, poi... Basta stare un po' accorti e il combattimento non è difficile, però... Io stare accorto non ce la faccio. Sì, poi in combat magari col mouse e tastiera è un po' piuttosto che... Che con il pad, quello sicuramente. Ma bisogna sempre ricordarsi comunque delle abilità che ho preso, perché io posso fare questo. Qua si sale. Qua si distrugge, sicuro. Passaggino segreto. Eh sì. Mamma mia, ragazzi, cosa sto scoprendo? Avrei detto... Nel mentre ho dato la prima mazzata ho detto... Ho fatto una figura, non c'è niente. In realtà c'era il passaggio. Ok, dai. Chi c'ha bouton? Spero non sia temporizzata, perché non ne esco più, se no. E poi di là... Bisogna andare di là, vediamo. Perché di qua... Mi sa che non si può andare su. Vai lì dentro, è il coso. Ma come faccio? Mi dai un consiglio tu? No? Si è aperto qualcosa sopra lì, però... Non è quello dove ero prima. Però c'era una porta qua. Che mi porta sotto. E qua c'è un'altra cosa... Oddio. Andiamo, è finito in una trappola. Non so come uscirne. C'è una leva. Queste cose mi fanno... Stelle del potenziamento. Ah, il percorso su cui devo andare. Mannaggia a te. Le, 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 no, è arrivato. Che bambù che sono. Più che altro non si capisce da che parte partiamo, ma... Uno, due, tre, quattro... Ok, come prima. Uno. Vabbè, dai, facciamolo. Eh, devo guardarmi per forza l'animazione. Quindi, il tre. Il due, il due, il due. Il dritto, dritto, dritto. Ok, dai. Proviamo. Anche se io credo che col pad sia più facile. Ok. Questa è la stele. Che ci sbloccherà qualcos'altro ancora. Migliora la salute. Sì. Intensifica. Voglio stamino o salute? Salute, assolutamente la salute. Spendendo. Ok. Bellissimo. Possiamo andare avanti ancora. Cioè, ne troveremo diverse e potremmo potenziarci. Ok. Non ho ancora trovato la mappa, però. Mi piacerebbe capire se... Cioè, praticamente questo era tutto evitabile, nel senso che non era necessario che io venissi qui. No, per forza sì, perché dovevo passare di qua. Voleva farmi proprio scoprire sta cosa. Adesso. È lì sopra, andrebbe abbassata. È chiuso anche lì, quindi tutto un percorso obbligato qua, perché vuole lasciarmi esplorare tutto. Allora, non impazzisco per la tematica, nel senso controllare una sorta di prehistoric man. Classico gioco che avevo da piccolo sul Game Boy. Non mi fa impazzire, diciamo, come personaggio principale. Però. Però. Abbiamo attivato i due affari qui. Quindi, tecnicamente, dovremmo aver aperto anche una porta qui, forse. No. Ma abbiamo attivato tutti e due i cosi. Quindi, tecnicamente, si potrebbe aprire la porta. Sì, infatti. Sì, animazioni bellissime. Il boss. Ok. Sul terreno. Il vecchietto lo lascia in pace, eh. Boh. È un po' da MMO. Con queste... Poi, ultimamente, sono allenato su Final Fantasy. Quindi... Sì, sì, è, ma comunque... Non è molto... Diciamo, Souls come tipo di combattimento. Nel senso che... È più da MMO. Perché ci sono questi indicatori. Se lo colpissi così? No, la stamina ho finito. Allora, la... Il peccato è... Che... Mi... Che comunque, anche se lo schivate fisicamente, ma entrate nella zona rossa del danno, vi fa comunque male. Soprattutto lo si vede sulla colonnina quella dove vi viene addosso. Se lui non vi prende fisicamente, ma eravate dentro... Ah, adesso gli abbiamo buttato giù la corazza e lo stiamo abbattendo. Vedete, se io adesso andassi... E probabilmente perché fa quella... Quell'ondine... Quell'alone... E ci prende con quello. Comunque no, la mechanical souls del... Rotola mentre colpisce funziona ed è identica. Qua possiamo... Uh, questo era sporco, eh. Non abbiamo più cure. Cazzarola, non abbiamo più cure. Ah, scusa, non puoi... Allora, i... Eh, no. Esca. No, non possiamo. Non possiamo in alcun modo. Non abbiamo cure. Eh, dovremmo giocarcela saggiamente. Eh, no. Non ce l'ho fatta. Ragazzi, il gioco sembra assolutamente intrigante. Non nego che magari si potrà arrivare al punto di sbloccare una mappa e vedere il mondo. Ma per intanto io credo che le premesse siano assolutissimamente ottime. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate. Se volete vedere un secondo episodio, se vi ha ispirato, non so direvi il prezzo perché appunto lo sto giocando che è ancora sotto imbargo. Quindi non si sa il prezzo. Si sa che, se andate a leggere su Steam, c'è la descrizione all'inizio, uscirà in Early Access, ma uscirà nell'arco di pochi mesi. Quest'anno comunque uscirà in 1.0. Ma è già ampiamente giocabile con 30 ore di gameplay. Fatemi sapere cosa ne pensate. E ciao ciao!